Sott'osservazione l'impatto ambientale del Terminal Crociere Italia Nostra dice troppo impattante, l'autorità portuale parla di atto dovuto intanto al via il progetto della nuova illuminazione del waterfront. Picchiato e insultato fuori dalla discoteca per una camicia leopardata è successo a Vallefogli e individuato un gruppo di ragazzi, il legale del giovane ha presentato querela. Denunciati due bracconieri a Sassoferrato, trappole nei boschi, animali protetti e impagliati, anche un'arma clandestina. Post sisma il 21 ottobre andrà in Consiglio dei Ministri un provvedimento speciale per il terremoto e la ricostruzione che poi verrà riconvertito nella legge di bilancio. L'annuncio dopo l'incontro del Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Siamo in onda in diretta, come di consueto, anche in streaming sul nostro portale e attraverso la pagina Facebook di ETV. In primo piano un focus sul porto di Ancona, sotto osservazione all'impatto ambientale del terminal crociere. Secondo Italia Nostra è troppo impattante, l'autorità portuale parla di atto dovuto. Intanto al via il progetto della nuova illuminazione del waterfront. Tutto nel servizio di Lucio Cristino. Vediamo. Dovrà essere sottoposto a VAS, valutazione ambientale strategica, il progetto del nuovo porto croceristico di Ancona per far attraccare le grandi navi da crociera nella zona storica al Molo Clementino, a ridosso dell'arco di Traiano. A chiedere di valutare l'impatto ambientale, l'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale che ha elaborato il progetto finanziando l'opera. A dare via alla VAS, la regione, con decreto del 15 ottobre, sostenendo come nel rapporto preliminare manchino indicazioni su coerenza del nuovo molo con la zona AERCA, l'area ad elevato rischio ambientale che si estende dalla raffineria di Falconara fino ad Ancona, quindi carenza di indicazioni su qualità dell'aria e peso sul traffico cittadino. Una richiesta di chiarimenti vista da Italia Nostra come una mezza bocciatura, seppure atto formale dovuto. Non possiamo andare a distruggere le vestigie di Ancona per un puro interesse economico. Questa è la replica dell'autorità portuale. Non c'è un progetto, c'è un studio di fattibilità che prevede, appunto, come le ho detto, una valutazione ambientale strategica e successivamente una valutazione di impatto ambientale, alle quali seguirà un progetto esecutivo. Oggi siamo nella fase preliminare di scelta delle attività e delle strategie da porre in essere per costruire l'opera con il miglior impatto possibile. La questione solleva il dibattito ultimo sulle grandi navi. Ancona non sarà Venezia, ma via dal centro, sostiene Italia Nostra. Un porto commerciale più lontano dalla città con la realizzazione della cosiddetta penisola e quindi allontanerebbe le navi dalla città in modo anche che gli eventuali parcheggi, macchine, croceristi e il resto non dovrebbero attraversare tutto il porto storico per arrivare al molo clementino. Il progetto del porto croceristico prevede un nuovo molo per i giganti del mare per un investimento totale di 27 milioni di euro con Termine Lavori, a meno di sorprese, a fine 2023. L'investimento ha una valenza duplice. Sono circa 22 milioni di euro che metterà l'autorità portuale per la costruzione della banchina. La edificazione del terminal crociere ha un costo che noi stimiamo intorno ai 5-7 milioni di euro. È variabile perché non lo farà l'autorità portuale, quindi non sarà lo Stato ad investire sul terminal, ma è il soggetto che vincerà la gara. Intanto in tema di porto, via libera dalla giunta, la nuova illuminazione del waterfront. 500 nuovi punti luce a basso consumo energetico predisposti per l'accesso a wifi e in alcune aree sensibili dotati di telecamere e di videosorveglianza, ha scritto il sindaco Mancinelli su Facebook. Il bando di gara, oltre 2 milioni, sarà emesso entro l'anno. Ed ora la cronaca aggredito, picchiato e insultato fuori dalla discoteca è accaduto nella notte tra sabato e domenica ad uno studente universitario urbinate ventenne alla discoteca Colosseo a Montecchio di Vallefoglia. La sua colpa? Quella di indossare una vistosa camicia leopardata. Il ragazzo è stato insultato e picchiato. Sarebbe spuntato anche un coltello. Il gruppo di aggressori ha danneggiato la sua auto e poi è scomparso per riapparire poco dopo quando ha preso a calce e pugni l'ambulanza che stava soccorrendo il giovane. Sul caso indagano i carabinieri di Vallefoglia che avrebbero già individuato il gruppo. Il legale del ragazzo ha presentato querela. È un fatto gravissimo e intollerabile. Ci attendiamo che i responsabili paghino fino in fondo per l'agguato a sfondo omofobo. Ancora per quanto riguarda la cronaca, in questo caso andiamo a fermo dopo la morte della moglie Sandra Semprini di 49 anni, è spirato anche lui, Giampiero Malavolta, 52 anni in ospedale dove era ricoverato dopo l'incidente in cui erano rimasti coinvolti entrambi lo scorso 27 settembre quando loro erano a piedi e furono falciati da un'auto in corsa. Ed ora ancora per quanto riguarda la cronaca andiamo a Sassoferrato. Sono denunciati due bracconieri, trappoli nel bosco, animali protetti, impagliati e anche un'arma clandestina. Vediamo. Lacci e catene metalliche usati come trappole nel bosco mettendo del cibo per attirare gli animali e poi catturarli, cinghiali ma anche altri mammiferi selvatici nella zona del Monte Castellaro vicino all'abitato di Monte Rosso a Sassoferrato. Nel mirino dei carabinieri forestali, gruppo di Ancona, sono finiti due bracconieri di Sassoferrato e Cupramontana. Attraverso gli appostamenti sono state condotte le indagini che poi hanno fatto scattare anche le perquisizioni nelle abitazioni dei due uomini. Oltre alle trappole usate, sono stati trovati diversi esemplari imbalsamati di specie tutelate. Tra gli uccelli un picchio, specie protetta e tra l'altro simbolo delle marche, un ciurlo, una nitticora ed un'upupa. Tra i mammiferi uno scoiattolo e un daino. Dentro congelatori industriali c'erano 18 confezioni di carne di capriolo e di daino provento di bracconaggio. Ora gli indagati rischiano pene fino alla reclusione per le condotte di bracconaggio e detenzione di specie particolarmente protette. Si contestano anche i reati di detenzione abusiva di munizioni non denunciate, sequestrati 10 fucili da caccia, 261 munizioni a palla e addirittura una pistola clandestina, ovvero senza matricola. Ritirate le licenze di caccia, i due rischiano la sospensione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Il Ministero dell'Ambiente ha finanziato con 9 milioni e 442 mila euro 13 interventi di contrasto al dissesto idrogeologico a beneficio di alcune aree critiche del territorio marchigiano. Serviranno a realizzare opere di mitigazione del rischio nella regione individuate nella specifica struttura commissariale che opera presso gli uffici regionali mediante l'applicazione di criteri tecnici di priorità stabiliti a livello nazionale. I fondi che riguardano aree di tutte e cinque le province sono previsti dal decreto ministeriale che definisce un piano di stralcio di interventi di difesa del suolo per il 2019 e stanzi a 315 milioni di euro per il territorio italiano. Ed ora andiamo nel capoluogo regionale Natale in anticipo ad Ancona 40 giorni di eventi arrivano fondi aggiuntivi più 200 mila euro dalla variazione di bilancio fondi anche per le strade nella stessa manovra del comune votata in Consiglio Comunale. Sentiamo. Si parte a fine novembre perché il Natale è anche in qualche modo qualcosa che va anticipato con gli allestimenti di una ampia zona della città che è quella del centro in più quest'anno andremo a interessare anche altri quartieri in maniera tale che sia un po' il Natale di tutta la città anche se il cuore pulsante naturalmente del centro è quello che attirerà più turisti. Riconfermati ruota panoramica in piazza Cavour insieme alla pista sul ghiaccio quindi il grande albero in piazza Roma con eventi che si allargeranno anche agli altri quartieri a partire dal piano San Lazaro. Un totale di 40 giorni da fine novembre all'Epifania per un Natale 2019 che sia bianco o meno destinato ad aumentare l'attrattività verso Ancona. Il via libera conti alla mano e nei 200.000 euro aggiuntivi per un totale di 350.000 euro deliberati dal Consiglio Comunale d'Orico in fase di variazione di bilancio terza e ultima no dall'opposizione. Contestiamo le spese relative al Natale 200.000 euro in più quando abbiamo le periferie che sono dissestate abbiamo dei problemi di viabilità enormi abbiamo delle zone dove i bambini riescono difficilmente a attraversare la strada faccio un esempio in aree come il Pinocchio manca la segnaletica in terra quindi diciamo ben venga la ruota ben vengono delle iniziative a Natale ma l'amministrazione deve farsi carico anche della periferia Nella variazione di bilancio anche il via libera con 900.000 euro in più totale 1.200.000 euro per le asfaltature in via Mattei la strada che unisce il porto alla Flaminia via ai fondi per il primo stralcio aspettando che parta l'iter questa è implementata per concludere un lotto di interventi e poi probabilmente c'è in piedi anche una valutazione per quello che è la realizzazione dei parcheggi dove sarà possibile quindi la progettazione c'è le risorse per il primo lotto ci sono ora devono pensare diciamo chi di dovere a fare i progetti a far parte i lavori Novità per l'area colpita dal sisma del 2016 il 21 ottobre andrà in consiglio dei ministri un provvedimento speciale per il terremoto e la ricostruzione che poi sarà riconvertito nella legge di bilancio un atto più volte chiesto dalle regioni anche perché una situazione straordinaria non può essere affrontata con strumenti ordinari ce l'ha fatto sapere il sottosegretario con delega alla promozione economica Mario Turco lo annuncia il presidente del consiglio regionale delle Marche Antonio Mastro Vincenzo dopo un incontro a Roma con il presidente della Camera Roberto Fico secondo Mastro Vincenzo è ormai indispensabile procedere all'apertura di un tavolo nazionale dedicato allo sviluppo sostenibile dell'area del centro Italia colpita dagli eventi sismici deve essere coordinato al più alto livello dalla presidenza del consiglio dei ministri le Marche quindi sono pronte dice Mastro Vincenzo a sedersi a questo tavolo per affrontare insieme le problematiche più volte segnalate per dare finalmente una svolta al processo di ricostruzione di rinascita di queste zone e continuiamo a parlare di post-sisma anche questa sera come facciamo ogni mercoledì con Sibila le voci della ricostruzione alle 21.20 sul canale 12 di Etv Marche sulle 14 dell'Umbria parleremo della proroga della busta paga pesante della restituzione anzi dell'IRPEF sospesa e poi tanti altri temi con i nostri ospiti ed ora parliamo di teatro Amat nuovo cartellone 750 eventi su tutta la regione l'attività già a conta 200.000 presenze a stagione sentiamo un viaggio su e giù a destra e a sinistra per le Marche alzando il sipario dei teatri storici dalle realtà internazionali fino ai piccoli scrigni di paese un totale di 750 spettacoli per 200.000 presenze registrate negli anni a dare misura della nuova stagione di spettacoli dal vivo nella regione dei 100 teatri ecco l'Amat diventata negli anni circuito multidisciplinare le sorprese sono davvero tantissime abbiamo contato a oggi circa 750 spettacoli che sono in programmazione e quindi si apre il sipario davvero in questi giorni è un'occasione bella perché come diceva Alberto Savini il teatro è il premio serale che l'uomo dà alla sua fatica di urna insomma la fatica di tutti i giorni il grande patrimonio di teatri che abbiamo nelle Marche davvero ogni piccolo borgo ogni città ha il suo teatro proprio perché ognuno ha bisogno insomma di questo premio serale è davvero una schiera incredibile di spettacoli con i grandi nomi della scena italiana internazionale teatro danza musica e dall'anno scorso anche circo contemporaneo quindi e la cosa che ci interessa molto è che non pensiamo a uno spettatore tutti possono essere spettatori quindi dal più giovane età e per loro a loro riserviamo ad esempio tantissime domenicali tantissime matinee dedicate ai bambini alle famiglie i giovani che sono con noi per tanti progetti collegati alle scuole insomma il pubblico normale chiunque può trovare uno spazio nella platea delle Marche per l'associazione di attività teatrali delle Marche oltre 40 anni di carriera la cogestione con i comuni di una serie di importanti spazi teatrali Fabriano Pesaro per esempio quindi progetti europei Craft Erasmus Plus un circuito che ha più di 40 anni che costituisce oramai una rete forse tra le più importanti nel nostro paese dà la certezza ai comuni che hanno scommesso il teatro perché la bellezza dei nostri teatri era dare da doverci scommettere che esiste insomma un organismo che riesce ad appoggiarli L'idea è ripensare il teatro come strumento di comunità a partire dalle zone del sisma Ampliare il pubblico che è il tema su cui si lavora usualmente perché poi quello del cosiddetto audience development è un tema molto importante perché poi dobbiamo concorrere ad aumentare anche l'indice proprio di avvicinamento delle persone allo spettacolo sappiamo che lo spettacolo non è solo cultura in senso aulico ma è anche un momento di inclusione sociale di comunità abbiamo lavorato nelle aree del sisma il popolare cantautore Mica ad Ancona in vista del suo tour che lo porterà il prossimo 26 novembre al Palaprometeo aveva lanciato nei giorni scorsi una sorta di call per un chitarrista proprio ad Ancona nel pomeriggio a sorpresa un mini concerto in piazza Roma proprio nel capoluogo regionale vediamo e su queste note io mi fermo qui vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul portale www.etvmarche.it che potete rivedere tutti i nostri servizi anche quelli di questa edizione attraverso l'app di ETV grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi a tutti i nostri programmi